Ti sei mai chiesto come un semplice commento possa cambiare tutto nella vita di una persona famosa? Oggi scopriamo come Chiara Ferragni ha trasformato il suo mondo grazie ai commenti dei suoi fan. Se sei curioso di sapere come, continua a guardare e non dimenticare di iscriverti al canale e mettere like al video. La celebre influencer Chiara Ferragni, durante la sua vacanza a Forte dei Marmi, ha postato una foto con una descrizione che ha subito catturato l'attenzione, Morsica col sorriso la tua vita. Un messaggio di resilienza e coraggio che ha risuonato fortemente con i suoi follower. La frase, nulla deve essere gli accettabile. Si inciampa e le ginocchia cedono perché è la vita. Rialzarsi e riaffrontare le difficoltà con coraggio e cocciutaggine rende entusiasmante la vita. Corri ragazza, corri. Morsica col sorriso la tua vita, ha ricevuto una pioggia di commenti positivi. Tra i commenti, emergono frasi come, riprenditi la vita in mano Chiara, adoro la nuova Chiara e risorgi dalle tue ceneri come una fenice. Questa ondata di supporto segna un punto di svolta, soprattutto dopo la turbolenta separazione da Fedez, che aveva attirato molte critiche. Ma cosa ha reso questi commenti così speciali? È la prima volta, dopo tanto tempo, che i feedback positivi superano nettamente le critiche. Potrebbe essere questo l'inizio di una nuova era per Chiara Ferragni? L'influencer sembra aver ritrovato la sua voce e il suo pubblico, che ora la sostiene con più forza che mai. In parallelo, Fedez trascorre le sue vacanze in una lussuosa villa a Porto Cervo, sfoggiando una nuova collana di diamanti. Ma è Chiara a catalizzare l'attenzione, con il suo messaggio di rinascita e la ritrovata energia che ispira i suoi seguaci. Non perdere l'occasione di seguire questa incredibile trasformazione. Cosa ne pensi del nuovo percorso di Chiara Ferragni? Scrivilo nei commenti! E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e metti like al video per non perderti i prossimi aggiornamenti sulla vita dei tuoi influencer preferiti. Grazie per la visione!